Quest'anno rispetto agli altri anni, come hai detto tu, abbiamo avuto meno giorni e lo sapevamo fin dall'inizio, non è un problema perché siamo partiti subito forti. Sicuramente è un campionato completamente diverso, un campionato dove c'è molta più qualità sia fisica che tecnica, quindi devo lavorare duro per farmi trovare pronto, visto che non è assolutamente semplice. Ognuno di noi deve essere consapevole delle proprie qualità e dei propri difetti, sicuramente la qualità migliore è l'aspetto fisico rispetto a quello tecnico e quindi cerco di lavorare principalmente su quello. Sicuramente mi aspetto qualcosa di meglio, visto che non sono riuscito a impormi con l'Atalanta, solo quattro presenze e due da titolare, quindi spero di fare molto di più da potermi confermare in questa categoria. Grazie a tutti! Grazie a tutti!